Ben tornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì 21. Due perturbazioni interesseranno l'Italia, una che si sta allontanando ancora all'ambirà le nostre regioni meridionali, invece ne arriva una nuova su quelle settentrionali. Tra poco entriamo nel dettaglio, come sempre cominciamo a dare un'occhiata alle temperature. Allora intanto mettiamo in chiaro che nel weekend avremo un calo delle temperature in tutta Italia, però per il momento ci manteniamo ancora al di sopra delle medie del periodo, sia come temperature minime, guardate decisamente al di sopra dello zero ovunque, sia come temperature massime che non raggiungono più certo i 23-24 gradi dei giorni scorsi, ma ancora riusciamo a toccare i 15-16 gradi al centro-sud. Bene, ora entriamo nel dettaglio della previsione. Per quanto riguarda il nord Italia, vi dicevo, arriva una nuova perturbazione, quindi graduale peggioramento che dalle regioni di nord-ovest si estende anche a quelle di nord-est, tornerà anche la neve sull'arco alpino, mediamente oltre i 1000-1200 metri, poi a fine giornata comunque situazioni in miglioramento a cominciare dal settore occidentale. Nell'Italia centrale tutto sommato tempo discreto, nel senso che non mancheranno un po' di nuvole di passaggio, ma poche piogge e probabilmente in Toscana potrà verificarsi qualche acquazzone un po' più esteso. Però nel complesso, ripeto, giornata non malvagia per l'Italia centrale. Al sud invece ritroviamo nuvole e piogge soprattutto nella prima parte del giorno e in particolare nelle regioni peninsulari, soprattutto Puglia, Basilicata e Calabria. Qualche piovasco anche intorno allo stretto di Messina e in giornata qualche goccia di pioggia raggiungerà anche il nord della Sardegna per la perturbazione in avvicinamento alle nostre regioni settentrionali. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale anche su Facebook, Twitter e Google Plus alla voce tra i bimeteo.